Gli immigrati sono quelle persone che vengono da altri paesi. Per migliorare la loro vita. Antipagli. Perché fanno brutte azioni. Per me sono delle persone normalissime. È giusto che vengano in Italia per migliorare, però l'Italia non lo può mantenere tutti questi immigrati. Fin quando erano pochi va bene, ma per ora arrivano a quintali. Sì, perché levano i lavori a noi. Possiamo dire quasi sì, perché i cinesi che vengono qui stanno lavorando il doppio di noi. Non c'entrano niente gli immigrati. Se gli italiani non hanno lavoro è perché è lo Stato che non ha i soldi, non perché ci sono gli immigrati. No, perché loro non vanno niente di male. Sì, sì. Ho visto che anche gli italiani, tempo fa, sono emigrati per andare verso New York. Ho visto che noi siamo stati pure degli immigrati. Gli immigrati potevano essere italiani, russi, brasiliani. Appena c'era qualsiasi problema, gli scafisti erano pronti a lasciare tutto, a lasciare lì le persone e andarsene. Nelle navi non ci sono cabine. Dormono fuori e sotto le lenzuola c'è puzza e non resistono. Le donne, per non perdere tempo, venivano rinchiusi in questa fabbrica e non potevano uscire quando poi scoppiò l'ingendio. E questa cosa veramente è molto triste. Gli italiani facevano di tutto pur di lavorare. Schiavi. Non lo so, provo testezza. No, mi hanno fatto pena perché sono stati costretti a abbandonare la loro famiglia per andare a cercare lavoro all'estero. Li volevo aiutare. Anche se però alla fine si sono adattati e pian piano sono stati anche accettati dagli americani. No. No, assolutamente no. I nostri bisnonni hanno vissuto le stesse cose che adesso vivono gli immigrati. Il lavoro, così potrei fare dei soldi e mantenere un po' la famiglia. Essere trattato bene. Persone civili. Io vorrei essere trattata come una persona comune. Delle cose belle. Vorrei trovare almeno un rifugio dove stare. No. Perché accusarli, mica è colpa loro. Più dei politici perché ogni volta quando paghiamo le tasse loro si mettono i soldi in tasca e noi restiamo senza mangiare soldi. Quindi non è che è per colpa degli stranieri. Se in una comunità ci fossero italiani, che fa fosse colpa degli italiani che stanno in una comunità? Monelli, cattivi. È una cosa brutta perché anche noi eravamo stranieri. Che sono molto cattivi, che non meritano di essere letti. Penso che non abbiano il cervello. Penso che siccome loro non sanno come reagire e non trovano la soluzione, ovviamente danno la colpa a chi non ce l'ha. Io creerei un centro sociale dove far entrare almeno un bel po' di questi stranieri, così per diminuire queste comunità che ti fanno spendere più soldi. Gli darai la casa, il cibo. Fare un accordo con tutta l'Unione Europea e ognuno si prenda una parte degli immigrati. E li fare trattare bene. Se ad esempio hanno una diversa religione, fare costruire ad esempio delle strutture dove poter pregare, anche nelle scuole. E farli andare in qualche casa abbandonata che la rista e possono rifarla tutta a capo. Io fare costruire delle case per curarli di alcune malattie che magari hanno. Trattarli come delle persone. Siamo tutti uguali. Tutti siamo uguali. Le persone sono tutte uguali. Le persone sono tutte uguali.